Penso che la squadra abbia avuto l'atteggiamento giusto, sia nervoso che mentale. Soprattutto quello che mi è piaciuto, ha avuto la sfrontatezza di provare a giocare. In settimana la squadra ha lavorato bene, ha cercato, ripeto, di provare a fare quello che abbiamo provato durante la settimana. Ci sono tantissimi meccanismi che vanno chiaramente migliorati, molti non li abbiamo proprio toccati per mancanza di tempo. Però la risposta che cercavo dalla squadra l'ho avuta ed è stata molto forte. Posso? Buonasera mister, Luca Cilli, Sport Italia. Buonasera e in bocca al lupo per questa sua nuova avventura professionale con il Pescara. Mister, una domanda molto secca. Come può fare questa squadra per provare a vincere qualche partita? Questa sera ha giocato molto bene dal punto di vista dell'organizzazione, ha concesso il minimo sindacale ad una squadra forte come il Frosinone. Ma come si può riuscire a vincere? Soprattutto lì davanti, anche questa sera, Odgar ha mostrato dei limiti sotto porta. Ecco, come si può cercare di conquistare un successo? E le è piaciuto l'atteggiamento di Maschine quando è entrato in campo? La ringrazio. Allora, lavorando e cercando di fare il massimo in un istituto di allenamento, cercando di migliorare i ragazzi che hanno la testa per poter fare le cose in un certo modo. Il discorso di Maschine è un discorso in generale. Insomma, io voglio, tra virgolette, soldati. Voglio gente che sposa la causa, che crede in questo percorso e che sputi l'anima. Seguendo quelle che sono le tiglie mie dello staff, non mi piace soffermarmi solo su un calciatore. Lei mi ha fatto il nome di Maschine, ma questo è il discorso che vale in generale. Chi non rispetta queste regole, chi è fuori dal coro, è fuori da ogni tipo di discorso. Insomma, io penso che le chiacchie ormai stanno a zero. Bisogna lavorare sodo. Ripeto, mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento della squadra, la personalità, la voglia di leggere quella che ci deve. Portare avanti e cercare di fare i più punti possibili. Grazie, mister. Senta, mister. Buonasera. Massimo Profeta, Reteotto Sport. Io sono d'accordo. Insomma, ha cercato di blindare la fase di non possesso della Pescara, che prendeva un gol sistematicamente da sei partite. Ecco, probabilmente bisogna migliorare, anzi, senza probabilmente la fase di costruzione. Ho già fatto un po' fatica a costruire il gioco della Pescara. Ecco, ma l'idea con questo 3-5-2, non so se continuerà a lavorare su questo sistema di gioco, è di cercare di più i quinti per rendere un po' più intraprendente questa squadra. Ma è un discorso complesso per quanto riguarda la fase di non sesso palla, perché bisogna lavorare su tutti i settori, insomma. Un modulo preciso, io penso a recuperare i calciatori, che ci possono dare qualche possibilità di più anche da un punto di vista tattico, e magari di avere un vestito diverso, insomma. Questa è una squadra che ha all'interno dell'organico giocatori forti, di qualità, e poi sta a noi cercare di trovare il progetto migliore. Ripeto, partiamo da questa partita, partiamo da questa voglia dei ragazzi di tirare sulla testa e poi ci aspetta una settimana di loro, dove dobbiamo andare a lavorare sulle cose che sono state fatte bene e sulle che vedremo in settimana, potevamo e dobbiamo fare meglio. Io penso che anche al primo tempo, insomma, la squadra ha cercato di giocare, mi è piaciuto che ha voluto rischiare, e se abbiamo perso palla ci potevano imbucare, perché eravamo completamente aperti, e da qui bisogna ripartire. Ripeto, in quattro giorni, quello che abbiamo provato, la squadra ha provato a farlo, a volte bene, a volte meno bene, ma teniamo conto che ci sono anche degli avversari di qualità e di valore, e penso che il fiorilogio abbia effettuato neanche una parata. Mi spiace per le occasioni importanti che abbiamo avuto, dovevamo essere più cattivi, più cinici su altre situazioni, dove la finalizzazione doveva essere diverso, soprattutto sull'ultimo passaggio. Però, insomma, ripartiamo con grande entusiasmo. Per quanto riguarda la scelta di Busellato, mi serviva un centrocampo con quelle caratteristiche, ma ho detto ai giocatori che saranno tutti fondamentali da qui alla fine, chiaramente quelli che mi daranno gli input giusti. Buonasera, mister Valerio De Carolis, Forza Pescara.com, benvenuto in bocca al lupo per questo impegno importante. Le chiedo, siccome sono d'accordo, il Pescara ha provato anche a giocarla, è questo forse il passo più importante? Cioè, non aspettare solamente, non subire, cosa che abbiamo visto con il sopredecessore, è una squadra devota solamente ad aspettare dietro, invece lei prova anche a costruire perché non si può solamente subire. Io ho un mio motto, insomma, chi sa fa, chi non sa spera, noi non possiamo sperare. Noi dobbiamo cercare di determinare, insomma, con quello che faremo durante la settimana per cercare di vincere le partite, per accorciare la classifica e spingere forte sull'acceleratore, insomma, senza tanti giri di parole. Premio il coraggio dei ragazzi, premio la volontà dei ragazzi, premio la cattiveria dei ragazzi. Questo deve essere un punto di partenza che deve dare fiducia alla squadra, ma la squadra stasera ha avuto grande personalità. Mister, buonasera, Francesco Palosalviani del Fino News, quanto è soddisfatto di questo punto e quanto invece è rammaricato per occasioni non solo individuali ma anche di squadra, non sfruttate quanto un frossinone che forse non era questa corazzata come sembrava sulla carta? Ma sono soddisfatto della prestazione, è chiaro che il punto mi avareggia e poi, ripeto, l'occasione più importante, l'occasione più bella l'abbiamo avuta noi. Al secondo tempo non abbiamo finalizzato nelle azioni che magari avevano bisogno di un passaggio migliore e a volte di minore egoismo in qualche zona di campo, insomma. Però si riparte con forza, con entusiasmo e domenica riprenderemo a lavorare per preparare la partita di sabato. Posto? No, volevo fare una domanda a Grassadonia, se era possibile. Sì, velocemente. Io volevo chiedere a Grassadonia, è chiaro che lei non ha una bacchetta magica e quindi ha fatto benissimo a fare questo tipo di partita e sono d'accordo con tutto quello che ha asserito Pocanzi. Il problema del Pescara è che lì in mezzo al campo ci sono troppi giocatori che giocano palla addosso, portano palla. Come si può eliminare questo difetto, secondo lei? Dobbiamo fare dei movimenti diversi con il resto della squadra, perché se avete visto insomma il Flosinone accettava la parità numerica dietro e dovevamo sfruttare meglio le situazioni di uno contro uno con gli attaccanti. Però, ripeto, su tanti tasti non ci siamo arrivati ancora, ci siamo fossilizzati principalmente su alcuni concetti di gioco e la settimana prossima ci servirà per ottimizzare il lavoro che è ancora tanto lungo. Però la base di partenza che mi interessava era quella soprattutto caratteriale e di personalità nel provare a fare. Grazie mille. Grazie mille.